Ehi la, ciurma! Io sono Mazzetest e benvenuti in questo nuovissimo episodio di MINDETEST ITA! Continuiamo i nostri grandissimi lavori con le porte più bugate che mai! Ci avventiamo sugli autocrafter! Sperando che si chiamino così, perché magari... Sì, autocrafter, perfetto! Allora, tra l'altro, le texture reworkate del Maze Crystal sono tipo... Ma! Oddio! Allora, dovrebbero bastarci in realtà due autocrafter perché vorrei farne uno per la lana e uno per il grano. Non dovrebbe esserci troppo bisogno di autocrafter, non essendoci una produzione così immane, insomma. Credo che lavorino abbastanza in fretta per poterne utilizzare giusto uno da una parte e uno dall'altra. Allora, abbiamo bisogno di cinque di Iron. Un, due, tre, quattro, cinque! Yeah! Due Maze Crystal. No, troppo bella quella texture. A me... Ragazzi, vai piace? A me piace da morire! Hanno cambiato forse anche la texture della Paper. Mi sembra più carina con queste ombre... Con quelle ombreggiature, diciamo, molto... Devo pensare anche alla farm di alberi. Eh, eh, ci ho pensato oggi perché... Allora, ero a gironzolare sui forum, cioè sul forum, e la gente si lamentava dicendo Eh, ma c'è troppo... c'è troppo plastica, bisogna trovare un modo per utilizzare la plastica. Uno ha fatto una mod, appunto, per creare dei blocchi colorati con la plastica. Eh, e io invece la plastica, cioè, devo abbastanza sempre farmela. Loro probabilmente hanno una fabbrica automatica di plastica con le foglie, no? Cosa che dovrei fare anche io, in realtà. Eh, solo che... Non l'ho ancora fatta. E... È da fare, no? Assolutamente è da fare perché... Mi velocizzerebbe un sacco il lavoro e quindi... Cioè, wow! Qua ho bisogno di un sacco di cavi, però. Qua ne ho 72, ma temo di averne bisogno di più. Eh, di più tv. Eh, quindi facciamo che prendere questi e un altro stack. Cerchiamo di fare un po' di... Eh... Un po' di plastica per fare un bel po' di tubi perché credo che ne avremo davvero un sacco bisogno. Perché là è molto lungo, cioè sono 15 cosi da una parte e 15 cosi dall'altra. Sì, so che non si chiamano cosi, ma 15 impianti, ecco, diciamo così. Eh, 99 diviso 6 dovrebbe essere qualcosa di divisibile. Non lo so, ma non importa! Perché tanto va bene così. Cioè, nel senso, nessuno si offende. Eh, papappero, ancora un altro po' di plastica, un altro po' di plastica, qua dividiamo. No, infatti non era divisibile per 6, ma per 3 sì. Ci dà un resto di 3 che noi andiamo a rimettere qua. Stiamo finendo pian piano le foglie. Adesso spariamo questi 92 là. e iniziamo a fare un pochettino di fogli, sì, di fogli, di tubi. 6. Ne abbiamo e vediamo poi ce ne darà altri. Ma per ora dovrebbe esserci, dovrebbe esserci bastanti, insomma, questi. sufficienti, ecco. Eh, qua, tra l'altro, il praticello sta diventando sempre più carino. Eeeh. Allora, quindi noi dobbiamo andare qua. Iniziamo a prendere i nostri carissimi pneumatic tube segment. e, eeeh, facciamo che... Allora, la mia idea è quella di posizionare l'autocrafter qua. Allora, eeeh, no. Ok, perfetto. Qua ho bisogno di mettere il crafting. Però qua ce ne sono solo 3, quindi... Ah, solo qua c'è cotone. Non ho cotone da altre parti. Non hanno ancora prodotto cotone. Porca pupazza, questo è un po' un problema perché devo tornare su. Eh sì, devo tornare su a sto punto, perché qua non hanno prodotto ancora abbastanza cotone. Non sono stato a FK qua nel frattempo, dall'ultima volta, cioè da quando ho completato questo impianto. Tra l'altro, cioè, nel senso, questo è un impianto abbastanza carino di cui sono abbastanza soddisfatto, perché su Mindtest credo di non aver mai fatto un impianto tecnico così su vasta scala. Su Minecraft sì, ma Minecraft ha davvero un sacco di mod in più dal lato tecnico rispetto a Mindtest, ma un sacco di mod in più in generale. E quindi, GG, cioè nel senso, è normale che su Minecraft fare della roba è enorme. Mi ricordo una volta che avevo fatto con dei pannelli solari una roba assurda, perché anche là sono 8 pannelli solari di quelli piccoli per farne uno grande, e c'è low voltage per farlo high voltage, e quindi un casino. Avevo fatto tipo 512 pannelli solari, ma una cosa assurda, ma una cosa assurda, adesso pensarci di qua... come cavolo ho fatto a fare una roba del genere? Non lo so. E avevo fatto un palazzo alto tipo 300 blocchi, una cosa... ma... davvero c'avevo un eredato dei secoli su quella roba là. E... E niente, prendiamo... no, di grano dovrebbe bastarci. Cioè nel senso, sotto avevano farmato abbastanza grano, quindi... nessun problema. Dovrò poi tenere ogni tanto sott'occhio quella cesta là, perché è una cesta normale, si riempirà sempre di più di cactus e di canne da zucchero, quindi magari a un certo punto dovrò poi disattivare la farm. Allora, io ammetto di non aver quasi mai utilizzato l'autocrafter, dovrebbe funzionare così e dovrebbe darmi della lana. Qua dovrebbe essere il... il cos... Eh, infatti... gli ho messo le risorse qua sotto, arrivano le risorse e qua invece ha l'output, insomma. Credo però che ci sarà necessario un injector, diciamo, per mettere questa lana. Tra l'altro la lana posso poi convertirla in cotone? Non mi ricordo assolutamente più. Forse no. Infatti, il cotone c'è un modo per farlo, non mi ricordo assolutamente più, ma... Ragazzi, cioè, io ho memoria è proprio zero. No, non puoi farlo. Ma tanto il cotone non serve a un kaiser, quindi anche se lo trasformo tutto in lana, cioè, gg buonotto è il secchio. Ah, posso rimetterlo là, per fortuna. Abbiamo bisogno di un injector. Però, io farei che piazzare qua tutti i cavi, adesso che si può, diciamo, e verificare, innanzitutto, se per caso ci sono dei problemi di cavistica oppure se funziona tutto liscio. Qua, per fortuna, non ci dovrebbe essere il problema dei note breaker, quello che ci aveva posto fuori, diciamo, però non si sa mai, è ben possibile che venga tutto droppato fuori, perché è comunque il 50-50%. Dovremmo mettere forse dei one-way tube in mezzo, però sono abbastanza costosi, e fare una cosa così lunga, tutto di one-way tube, sarebbe un po' dispendioso. Però sarebbe comunque una soluzione più... Ah, qua aveva del cotone. Perfetto. Come potete vedere, varia abbastanza la produttività, perché, nel senso, essendo una cosa random, la velocità di crescita del... Eh, qua, infatti, per esempio, ce n'era altro. Essendo una cosa random, la crescita del cotone, possiamo trovare una pianta che non ha ancora finito di fare cotone, e una che ne ha fatti due, no? Poi adesso stanno anche abbastanza finendo, mentre noi arriviamo in qua, ma siamo arrivati alla fine, quindi questa è l'ultima. Buon, perfetto. A sto punto io... Eh, vedete, ce n'è già uno che torna indietro di qua. Vediamo che fine qua dovrebbe... che fine fa, dovrebbe arrivare in fondo qua, e tornare indietro, non venire sdroppato. Ok, torna indietro, perfetto. A sto punto andrà tutto avanti, e... Ah no! Si infila là dentro! Porca miseria! Però non posso mettere off là, perché deve per forza uscire di là il cotone. E quindi questo potrebbe essere un casino. Perché questo potrebbe girare qua per dei secoli. per dei secoli. Altrimenti si potrebbe fare un... una fila qua in mezzo di one-way tube, in cui lui può andare solo in una direzione. Quanto costano i one-way tube? Controlliamo. One. E dovrebbe bastare one? No. Way. Un mese crystal per farne due. Qua di quanti ne abbiamo bisogno? Ne abbiamo bisogno di 15x2, 30. Non so se noi abbiamo tutti quei one-way tube per far funzionare una roba del genere. Cioè tutti quei mese crystal per fare una roba del genere. Controlliamo. Cioè ora come ora funziona? Non dovrebbe essere sdroppato nulla, però ci mettono delle ere geologiche. Mentre invece mettendo di one-way tube qua, in questa parte non dovrebbero poter andare in altro punto che non avanti. Sì. Perché là non entrano, quindi o vanno avanti o vanno avanti, per forza. Quindi con i one-way tube risolviamo assolutamente tutto. Dato per fortuna che non ho fatto tutti i tubi, ma mi sono tenuto i fogli di plastica qua. Però devo vedere quanti cristalli di mese abbiamo, perché è una ricetta abbastanza costosa quella dei one-way tube. E di conseguenza più ancora dei sorting, forse. Ne abbiamo 37, però con 30 riusciamo semplicemente a farne uno. A farne uno di fila così. Farne una fila. Quindi direi che o andiamo a farmare come degli scemi giù sotto, o per ora ci accontentiamo di questo. E direi che forse la cosa migliore è per ora accontentarci di questo. Vedere se magari è arrivato qualcosa qua in fondo. È uno. Cioè di tutto sto giro ne è arrivato uno. No, abbiamo davvero bisogno dei one-way tube. Però sono necessari in tutte e due le direzioni. Forse no. Se ne mettiamo solo uno qua, lui non lo spedisce in qua, ma lo spedisce in là, perché è l'unica direzione. Poi qua è per forza obbligato ad andare in là. Forse riusciamo a utilizzarne solo la metà di tubi. Perché lui è obbligato a mandarlo qua, perché là non entra. Giù vuole solo i semi. Quindi sì, dovrebbe bastare uno prima, per non farlo andare indietro. Per non farlo andare indietro. Quindi di conseguenza passiamo a un numero di 15. 14. 14, però ognuno ce ne dà due in realtà. Quindi sì, si può fare. 14, 14, 28. Abbiamo bisogno di 14 mesi crystal. E ci sta. Quindi andiamo a fare questo. Assolutamente. E vediamo come risolvere la situazione. Io direi che possiamo, cioè la fin fine ce la caviamo abbastanza senza troppi problemi. Siamo pieni di diamanti, ma mesi crystal proprio pochi pochi. Anche perché si fa tutto praticamente con i mesi crystal. E quindi non abbiamo più legno. Ce n'è qua di legno. Sì, per fortuna sì. Ma utilizziamo questi che si fanno schifo come legni. Quindi se dobbiamo utilizzare della roba rubber tree trunk. No, questi possono servire, perché piazzati poi sono... sono comodi. Allora, facciamo così. Prendiamo questi legni che fanno abbastanza schifo. Questi li convertiamo... Ah no, naturalmente ho convertito quelli che non facevano schifo. Mi sembra giusto. Facciamo un po' di stick, secondo me ne abbiamo fatti fin troppi. Facciamo questo, un one way tube e mettiamo tutti. Poi qua... Qua 28 dobbiamo farne, vero? E non ci basta la plastica. Non ci basta la plastica. Dire che ne abbiamo fatta abbastanza di plastica. Io davvero non riesco tanto a capire quelli che dicono Ah, c'è troppa plastica, non so più cosa farmene. Avremmo bisogno davvero di una farm automatica. Però, nel senso, ho parlato con UU, cioè UU ha messo un commento, credo che possiate averlo visto anche voi. Lui per ora mi sembra quello che è stato più esperto nel parlarmi di questi argomenti. E mi ha detto che lo utilizza con semplicemente i block breaker. Sono un po' titubante, vi dirò, perché solo con i block breaker, vabbè che di block breaker dovremmo averne ancora un po' di avanzati. Sì, sì, 31. Però, lo metti sul tronco. Ok. Le foglie poi cadono automaticamente. Dovrebbe essere così. Dovrebbe essere così e poi dovrebbero essere aspirate là. Inoltre, ci sarebbe bisogno di un deployer sotto per mettere il sapling e un node detector per scoprire quando non c'è più il sapling ma c'è il legno. Potrebbe essere comodo. Forse è anche più facile che non utilizzare la motosega. Anche se la motosega fa più rapido. Non dovrebbe essere però troppo complicato. Cosa sto facendo? Cosa sto facendo? Oddio. Torniamo di là. Quelle due pigne sono spese nel vuoto. Che rabbia. C'era una sequoia là. L'ho distrutta ma sono rimasta quelle due pigne là. E non ho assolutamente ancora avuto la voglia di andare alla perpigne. Cioè è un po' uno sbatti. Prossimi episodi o no? Assolutamente. Prossimi episodi dobbiamo guardare quello. Perché è un po' un problema. Io sto guardando un attimo da quanto stiamo registrando. Stiamo registrando da 15 minuti. Sono tornato a OBS perché come avete potuto vedere negli scorsi video c'era il cursore che faceva uno sfarfallio strano. Ma non solo su Mindtest ma anche su altri giochi. Faceva quello sfarfallio strano brutto. Quindi ho detto vabbè OBS ha un po' i suoi problemi. È un po' più pesante di action per registrare. Però per ora è quello che mi ha supportato meglio. E poi converte in automatico. Cioè nel senso action fa con dei formati proprietari suoi che per cui non puoi convertirlo. Cioè devi esportarlo prima perché è un po' un casino. Io metto tutto qua però gliene metto ancora non tanti. Facciamo 30 per essere sicuri. Però via tutto insomma qua. Adesso dobbiamo magari anche andare a dormire. No ma non per forza. Ci sono rimasti un fracco di stick qua nell'inventario. Allora andiamo a mettere dei one way tube. E me ne frega un Kaiser della notte anche perché sennò perdiamo un altro fracco di tempo. Ste porte continuano ad essere buggate. Io non so per quale strana ragione. E... Si sono formate delle lily pad qua sotto. LOL! Vuol dire che non hanno bisogno di luce forse. Perché c'è luce ma non ce n'è tanta. Dove li ho messi qua? One way tube. Allora a sto punto io direi che mettiamo così. E... E normale. Allora questo lo togliamo. Mettiamo quello normale e questi li togliamo. Quello ci può stare così. No quello non lo toglie naturalmente. Quindi... Vabbè sì tanto non può tornare indietro. Non può andare in giù. Quindi me li manderà là. E non è grave insomma. Qua mettiamo così. Il bianco è disabilitato per ora. Quindi farà il giro stupido per ora. Quindi facciamo così. Perché davvero sono disabilitati gli altri. Quindi... Sarà da fare un po' un Cajun. Però credo che così possa funzionare. Voi per caso correggetemi se per caso... Per caso per caso. In caso di casa... Le cose... Eh... Si aggravano un po'. Però... Basta. No così dovrebbe essere assolutamente funzionante. Potremmo verificarlo. Togliendo gli altri cavi. Però... C'è da fare. Allora... On... Il nero. Da tutti. E off il rosso. Quindi qua... Off e on. Me li hai presi? Ok. Per essere sicuro. Perché sennò poi dopo succedono dei... Macelli assurdi. Allora... Off... E on. On e off. Che poi forse si poteva risolvere anche con quelli. Eh... Tecnicamente. Cioè mettendo off di là. Lui non usciva ma lo prendeva. E... E quindi... Potevo evitarmi One Way Tube. Perché dal bianco non esce. Ho fatto un sacco di lavoro per niente. Cioè potevo... Sbrogliarmela con quelli. Eh... Beh ragazzi... So stupido. Che ci volete fare? So stupido proprio. Eh... Vai in là. Ok. Così adesso vediamo un po'. Eh... Questo si è droppato naturalmente. Perché gli ho rotto il coso per sbaglio. Mentre stava passando. Qua ho messo off e on. Off e on. Che poi non è indispensabile. È quello dell'arancione. Perché essendo che non esiste quel collegamento non lo utilizza. Però è sempre meglio essere sicuri. Perché non si sa mai. I pipeworks sono potenti ma... Sono un po' buggosi diciamo. Ti ho messo on. Ok. Eh... E quindi certe volte fanno delle cose strane. Delle cose strane un po'... Matte. Quindi adesso... Meglio sempre andare sul sicuro. Dico io ragazzi. Piuttosto ti metti un off in più. Ma... Almeno non perdi della roba. Non perdi della roba. Perché sennò qua... Che cavolo... Abbiamo costruito affare, no? Qua via. Via. E qua dovremmo essere a posto. Off e on. No. Qua dovrebbero essere on su tutti e due. No. Nero non ce l'ha. Quindi... Così. E mo dovrebbe essere a posto. Questo dovrebbe craftare in automatico... La lana. E la lana mandarla su. Con un carissimo... Injector. Che... Deve essere sempre attivo. Quindi dobbiamo mettergli un segnale di redstone. Accanto. Io però qua farei una cosa più... Accetta input anche da sopra. Suppongo di sì. Perché metterlo un piano più sotto... Secondo me è più comodo. Per il fatto che così posso passare. Semplicemente per quello. Perché altrimenti qua diventa... Vabbè ma possiamo sistemarlo anche in un secondo momento. Adesso andiamo a fare un attimo... Adesso andiamo a fare un attimo un injector. Che ci servirà assolutamente per far andare la roba in là. Poi farò lo stesso procedimento per il pane. Ma là ci sarà anche da fare un sistema di fornaci. Per riuscire a far funzionare il tutto. Quindi... Anzi il pane proverò a farlo. Senza i one way tube. E vedere se funziona. E niente. Nel prossimo video spero di ricordarmi. Vi dirò che cosa è successo alla fin fine. Cosa dobbiamo fare? Il injector. Questo ne manda uno per volta. Questo ne manda uno stack. Ma credo che uno per volta possa bastare. Per fortuna abbiamo ancora plastica. Abbiamo degli stick in modo infinito. E 4 di ferro. Che il ferro è qua. Mi sbaglio sempre. 1, 2, 3, 4, 5. Non so contare. Allora uno stick. Un mese crystal. Vediamo se mi ricordo tutto. O se sono come Marcus Crone. No ok. Mi sono ricordato tutto. Prendiamo anche un segnale di redstone. Sempre attivo. Tipo una leva. Vado per la leva. No perché quelle sono blinkie. Non sono quelle fisse. Quindi autosort è on. Allora andiamo in giù. E andiamo a sistemare questo. Così dovrebbe risolvere per sempre il nostro problema. Ma io vorrei davvero un sacco che usassero di più i diamanti. Queste ricette di crafting. Perché sono tutte fottutamente con il mese. E quindi è uno spreco di mese immenso. Mentre i diamanti te li tieni là a caso proprio. Mettiamolo così. E lui dovrebbe mandarli sempre. Oppure a ogni click. Forse a ogni click. Quindi in questo caso ci conviene meglio la blinky plant. Così manda degli impulsi costanti. E in questo modo dovremmo aver risolto la questione. Io credo che bastasse un impulso costante. Invece no. Ho sbagliato a dire prima. Non un impulso costante. Così gli manda degli impulsi a intermittenza. Ecco. A intermittenza. Quindi è spenta e accesa. E accesa e è spenta. E accesa e accesa. E boh. E quindi questo dovrebbe risolvere la nostra farm di cotone e portarci su automaticamente della lana. Molto comodo, molto comodo, molto comodo. Vediamo ora. Ok. Accesa. Spenta. Accesa. Spenta. Perfetto. E qua non so se sta arrivando il cotone. Ma io mi auguro di sì. Cioè nel senso qua sono tutte piantine piccole adesso. Quindi bisognerà vedere. Qua ne è caduto uno perché? Sono tutte piccole. Quindi niente viene raccolto per ora. Ma... Boh. Si vedrà se aumenta la lana. Si vedrà. Adesso vediamo quando finisce qua. Ce n'è ancora uno. Adesso poi renderà via quello. Ok. Infatti perfetto. Adesso vado un attimo su a vedere quanta lana c'è. E vedremo se aumenta. Se aumenta vuol dire che il cotone funziona. E gli porta... E gli porta tutto. Ora va qua. Dove la auto sorta. 86 di lana. Perfetto. 87 sta arrivando. Sta arrivando lana. 87. No. Forse è finito su 87. Si. Stabile su 87. Allora io per questo video vi saluto. Vi invito a lasciare un mi piace. Iscrivervi al canale. Se per caso non l'aveste ancora fatto. Ciao a tutti ragazzi. Una buonissima giornata a tutti voi. Se saluto. Sì. sorti su 8 사�